cinturone ex bundeswehr originale esercito tedesco federale germania ovest troviamo i quattro attacchi per gli spallacci in questa parte qua vanno messi i suoi spallacci appositi dove vengono incastrati e bloccati da questo da questa parte lo sgancio è una fibbia in tecno polimero molto molto resistente all'interno ha una minima regolazione il cinturone a differenza i tanti altri a diverse taglie diverse taglie che trovate scritte al suo interno le volte stampigliate in questo caso poco visibili ma comunque hanno stampigliato sono tutti divisi per taglie tutto occhiellato con occhielli metallici dove vengono poi agganciati i suoi le sue i suoi taschini porta caricatori porta borraccia appositi tessuto cordura molto resistente solida